Questo esercizio dice trova MCD e MCM dei seguenti gruppi di numeri. Ci limiteremo al gruppo di numeri 104, 78 e 36. Scriveremo pertanto MCD di questi numeri e MCM di questi numeri il posto dove puoi scrivere il risultato. Al di sotto di questi scriveremo dove scrivere il risultato della scomposizione dei singoli numeri. E inizieremo con la scomposizione del numero 104 che diviso per 2 ha come risultato 52, ancora divisibile per 2 e fa chiaramente 26. Ancora essendo pari divisibile per 2 ha come risultato 13 che è un numero primo e pertanto è divisibile per se stesso. Il risultato di questa scomposizione è, appena riuscirò a selezionare questo rettangolo, 2 alla terza per 13. Passiamo poi alla scomposizione del 78 che è divisibile per 2. Il risultato è 78 diviso 2 e 39 che è divisibile per 3 in quanto 3 più 9 fa 12. 39 diviso 3 è 13, è un numero primo e 13 diviso 13 fa 1. Il risultato di questa scomposizione è chiaramente 2 per 3 per 13. Passiamo all'ultimo numero da scomporre, il 36 che è divisibile per 2 e il risultato è 18. 18 è ancora divisibile per 2 e fa 9. 9 è divisibile per 3 e fa 3 che è un numero primo e 3 diviso 3 fa 1. Il risultato di questa scomposizione è 2 alla seconda per 3 alla seconda. Pertanto, il massimo comune divisore fa 104, 78 e 36 sono tutti fattori comuni con l'esponente minore di questa scomposizione. I fattori comuni, osservando i risultati, è solo il 2 e con l'esponente minore abbiamo 2. Pertanto, il risultato, l'MCD, è 2. L'MCM sono tutti fattori comuni e non comuni con l'esponente massimo. Pertanto, qui avremo il 2, il 3 e il 13. E il 2 con l'esponente massimo è 2 alla terza. Il 3 rimane 3 e il 13 rimane 3. Anzi, il 3 è 3 alla seconda, scusate, per 13. che lasceremo sotto forma di moltiplicazione.